Ciao Valeria, figlia nostra, angelo del cielo. Si legge in uno striscione che campeggia sulle transenne ancora vuote di una piazza San Marco blindata dalle forze dell'ordine. Una piazza che si riempie velocemente per il funerale di Stato alla vittima veneziana di Parigi. Un onore che era stato tributato un secolo fa solo al patriota Daniele Manin. Il feretro arriva dal bacino di San Marco sulle spalle dei gondolieri che depositano la bara sullo sfondo della Basilica di San Marco. Ci sono le massime istituzioni dello Stato ma solo il ministro della difesa prende la parola per leggere il messaggio di cordoglio alla famiglia e all'Italia del presidente francese Hollande. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra la famiglia per un colloquio privato. Parla invece il padre Alberto con la moglie Luciana che gli stringe la mano e spiega l'atteggiamento composto e dignitoso che ha commosso l'Italia. È dedicato a tutte le Valeria e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e sarebbero. Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia benedice il feretro ma prima si rivolge commosso a Valeria, ai familiari ma anche agli uomini e alle donne del terrore. La vostra cultura ci fa inorridire ma non ci intimidisce. In nome di Dio cambiate il vostro modo di essere. Parla l'imam con una ferma condanna di ogni violenza in nome di Dio. I tuoi assassini hanno voluto con il loro gesto criminale di separarci e dividerci ma oggi hanno fallito. Parla il rabbino capo di Venezia ricordando che ci sono azioni che competono alle istituzioni ma anche ad ogni singola persona. Ma sono soprattutto gli amici ad interpretare un sentimento diffuso di questa piazza con pensieri, versi, ricordi, emozioni di una vita come tante divenuta simbolo inconsapevole di un comune impegno per la pace. Per dare un senso alla sua scomparsa ci prendiamo l'impegno di superare con il tempo questa perdita e di trarne una lezione ispirandoci al suo approccio nei confronti della vita. Ciao Coca!